Salve, sono Fabio Guerretta, qui rappresento la Molo Group. Siamo qui al primo anno che siamo a Vita in Campo. È una bella manifestazione dove si vedono tutte le macchine che ci sono disponibili sul mercato per i vignetti. Noi qui presentiamo due macchine dell'Aero. Abbiamo una cimatrice doppia, carrellata, attaccata posteriormente, che è una bella macchina che consente di fare circa 30-40 ettari al giorno. Il vantaggio di averla attaccata dietro è che l'operatore si stanca molto meno, è meno stressato dal lavoro e il trattore si sporca molto meno perché tutti i residui fogliari non vanno sul cofano del trattore, non vanno a imbrattare il trattore. Questi vedono i risultati della defogliatura. Sulla fascia, sempre dell'uva, si tolgono delle foglie in maniera da riuscire ad realizzare bene il grappolo, di risparmiare sui prodotti fitosanitari e avere una migliore efficacia anche dei prodotti e più sanità dell'uva, riuscendo ad realizzare di più il grappolo e anche con il sistema che pulisce, che soffia l'aria, pulisce bene il grappolo in maniera che non ci siano residui all'interno e quindi portano ammarsumi e botrini.